il segretario nazionale di Fondazione Comunista che è in collegamento online. Allora, mi scuso per non essere lì con voi, come stavo dicendo, ma purtroppo domani comincia la nostra festa nazionale e sono un po' incasinato. La mia relazione è su quanto era ecologico Marx. Per me si tratta di una questione politica, non di valore storico, di approfondimento filologico. E riguarda il presente e il futuro della sinistra radicale e dei movimenti. Era il titolo di un panel all'Università Estiva della Sinistra Europea e mi è parso utile riproporvelo. Da anni noi assistiamo alla evoluzione moderata dei partiti verdi, alla loro sussunzione direi, che è stata preceduta dalla deriva neoliberista dei partiti socialisti e socialdemocratici europei. In entrambi i casi alla base c'è stata proprio la fine del legame con la critica di Marx al capitalismo come riferimento centrale. Di questa deriva non si può tacere ovviamente per noi l'arruolamento nell'oltransismo atlantista e guerrafondaio occidentale. Anche i movimenti verdi hanno spesso visto Marx come espressione di una cultura ottocentesca incentrata sullo sviluppo e sulla crescita industriale. Questa critica aveva ragioni storiche fondatissime ma a mio parere non era corretta. Soprattutto ha portato alla perdita di un punto di vista anticapitalista. Era una critica sacrosanta se rivolta ai movimenti e ai partiti socialisti e comunisti dell'Ottocento e del Novecento ma assai meno se rivolta a Marx ed Engels. Le forze politiche del movimento operaio per un secolo sono state impegnate più che altro dai problemi della povertà e dello sfruttamento delle lavoratrici e dei lavoratori e sicuramente avevano abbracciato un'ideologia industrialista che vedeva nello sviluppo economico solo un potenziale di liberazione e progresso per la classe lavoratrice e la popolazione più povera. Questo è accaduto nella costruzione dell'URSS e dei suoi satelliti europei, più tardi in Cina con l'impulso frenetico a espandere la produzione in nome della modernizzazione. Nei capitalisti occidentali i sindacati e i partiti di sinistra hanno sempre avuto come priorità la creazione e la difesa di posti di lavoro e la crescita economica da ridistribuire attraverso lo Stato sociale e le rivendicazioni salariali. Quindi che l'ideologia ottocentesca del progresso industriale e tecnologico sia stata certamente adottata dai partiti, dalla seconda e terza internazionale e da quello che è seguito è certo. E quindi era fondatissima una critica ecologica del marxismo, così come si presentava, e dei movimenti e partiti che si dicevano socialisti e comunisti. E credo che sia stata molto utile negli anni Sessanta agli albori dei moderni movimenti ambientalisti e ecologisti. Io ho sempre considerato i poeti della Big Generation, che avevano tutti una formazione di sinistra, tra i precursori dell'ecologismo, che hanno anticipato una critica del socialismo di Stato e del capitalismo occidentale negli anni Cinquanta e Sessanta. Voglio citare Allen Gitzberg. Possiamo distruggere la residenza umana del pianeta se non esercitiamo la nostra natura migliore, ponendo fine al mito marxista, sottolineo che Gitzberg scriveva, marxista, capitalista, ottocentesco, del progresso con rivalità imperiali e espansionistiche. In questo caso si riferiva alla guerra fredda. Nel Cinquantasette Kerouac, che non era solo un gran bevitore di alcol, ma era stato iscritto al sindacato dei marittimi della costa occidentale, quello che è sempre rimasto diretto da comunisti fino alla rivolta di Seattle, per capirci erano quelli che nel 99 cantavano l'internazionale durante manifestazioni anti-globalizzazione, scrisse nei vagabondi del Dharma un brano che è un manifesto della decrescita. Non a caso era messo in bocca al poeta Gerizma Neider, che poi diventerà un leader del movimento ecologista americano con l'ecologia profonda. Kerouac scriveva che i vagabondi del Dharma si rifiutano di aderire alla richiesta generale di consumare, quindi di lavorare per il privilegio, di consumare tutte quelle schifezze che comunque non volevano come frigoriferi, televisori, automobili, nuove auto di lusso, oli per capelli, deodoranti, eccetera, un elenco infinito, ed evocava quindi tutti imprigionati in un sistema di lavoro-produzione-consumo-lavoro-produzione-consumo. Ginsberg giunse a scrivere I marxisti non hanno capito che gli sfruttati non erano solo i lavoratori o il terzo mondo, ma anche le piante, gli alberi, le altre specie animali, i fiumi, i mari, i compagni, i pesci avvelenati dai rifiuti industriali. Se negli anni 30 il da noi amatissimo poeta comunista Bertolt Brecht in lotta contro Hitler ha espresso le priorità del momento scrivendo «Parlare di alberi è un crimine», negli anni 60 i poeti hanno cominciato a capire che parlare di alberi stava diventando un dovere rivoluzionario, recitare qui anche il nostro Caproni che andrebbe recuperato. Forse Marx avrebbe apprezzato questi poeti che si definivano marxisti psichedelici perché, come racconta Mering nella sua biografia, per Marx i poeti non potevano essere misurati con il metro degli uomini comuni e anche di quelli non comuni perché nel poeta Marx vedeva anche il combattente lo spirito libero che spesso comprende le connessioni più profonde della vita storica. Karl Marx però, al contrario dei suoi epigovini, aveva ben chiaro che il capitalismo non si basa solo sullo sfruttamento del lavoro umano ma anche su quello della natura. Ma questa coscienza certo non è stata il tratto predominante del socialismo del XX secolo e lo sottolinearono intellettuali come Pierpaolo Pasolini giustamente riabilitato da Piero Bevilacqua in un suo libricino molto prezioso o Herbert Marcuse che compresero la necessità di una critica della modernizzazione capitalistica e la centralità della questione ecologica ma ricordo che furono definiti reazionari o romantici da molti marxisti duri compresa quasi tutta la nuova sinistra operaista. L'ecosocialismo di oggi bisogna dirlo chiaramente che riscopre elementi che erano molto presenti in Marx e Engels e che erano stati seppelliti dalle socialdemocrazie e dal marxismo-leninismo sovietico. Marx forse se n'era accorto per questo concluse un suo intervento con una famosa battuta non sono un marxista per quanto mi riguarda e per questo anche nella sua critica del programma di Gota l'ha chiuse con Dixie et Salvavi Anima Meam perché proprio in quel testo fondamentale che era un testo pratico politico del Marx maturo perché era il 1875 criticando il programma scritto dai suoi compagni del nascente partito socialdemocratico tedesco aveva scritto La Salle dal quale purtroppo Lenin riprese una citazione che è stata poi funesta il partito si rafforza e purandosi Marx in quel testo ribadiva quanto aveva già scritto nel primo libro del Capitale la produzione capitalistica sviluppa la tecnica e la combinazione del processo di produzione sociale solo minando al contempo le fonti da cui sgorga ogni ricchezza la terra e l'operaio come sottolinea Bellamy Foster nel suo libro sull'ecologia di Marx il nostro illustre antenato si era proprio occupato con approfondimento scientifico da antesignano dell'ecologia delle conseguenze del capitalismo sull'agricoltura quando Piero bevi l'acqua come faceva la mia amatissima Laura Conti sottolineava che il suolo è un ecosistema e che se si continua con l'agricoltura industriale non avremo più terre da coltivare è pienamente dentro la continuità con la lezione di Marx il dato che ci ha dato stamattina ogni anno 12 milioni di ettari persi di suolo fertile ricorda le denunce proprio di Marx che risalgono all'Occidente quando il processo era all'inizio non a caso lo storico dei beni comuni Peter Leimbo ha scritto la postfazione alla recente riedizione della critica del programma di Gotha in lingua inglese scrive Leimbo il programma di Gotha dice che il lavoro è la fonte di ogni ricchezza non è così dice Marx la natura è una fonte di ricchezza materiale tanto quanto il lavoro in quella negazione in quel no di Marx scrive Leimbo è la chiave che apre la porta per noi nel ventunesimo secolo al riscaldamento del pianeta e alla sesta estinzione ci entriamo per quella porta con l'ecosocialismo e siamo ormai sull'orlo dell'abisso e guardiamo alla frattura ecologica Marx scriveva della rottura irrepalabile tra natura e società o per meglio dire chiamava la relazione natura, umanità, metabolismo Marx solleva il velo sul nostro mondo sulla natura sulla biosfera sulla creazione sui beni comuni solo la classe lavoratrice scrive Marx la critica di Gotha può eliminare questa maledizione storica nei suoi scritti economici successivi Marx sviluppò quest'analisi di un rapporto umano con la natura come una forma di metabolismo sociale che faceva parte del metabolismo universale della natura invece di un trattamento razionale consapevole della terra come proprietà comune permanente abbiamo lo sfruttamento e lo sperpero dei poteri della terra Marx introdusse la nozione di frattura irreparabile nel processo interdipendente del metabolismo sociale che era imposta scriveva dalla natura stessa della accumulazione infinita nel capitalismo e quindi condivido la proposta di Guido Viale di sostituire alla parola crescita l'espressione marxiana accumulazione di capitale questa rottura con l'eterna condizione naturale alla base dell'esistenza umana sociale sosteneva Marx richiedeva una restaurazione attraverso la regolazione razionale del metabolismo tra umanità e natura nel capitale Marx avanza la visione dell'ecosocialismo dal punto di vista di una formazione socio-economica superiore la proprietà privata di particolari individui sulla terra apparirà altrettanto assurda quanto la proprietà privata di un uomo su altri uomini anche un'intera società una nazione o tutte le società simultaneamente esistenti prese insieme non sono proprietarie della terra sono soltanto i suoi possessori i suoi usufruttuari e hanno il dovere di tramandarla migliorata come boni patres familias alle generazioni successive praticamente l'adesivo lo slogan è l'unica che abbiamo che usavamo con le gambiette negli anni 80 come hanno rivelato gli studi di Foster e di altri Marx si occupò di ecologia e natura dai suoi primi scritti fino alla maturità anzi ha contribuito a definire il concetto prima che la parola ecologia entrasse nel vocabolario nel terzo libro del Capitale espresse una visione della società socialista, comunista chiamiamola Arturo Fa lo stesso in cui i produttori associati non solo si liberano dallo sfruttamento capitalistico ma l'altro obiettivo è quello che regolano razionalmente lo scambio organico con la natura forse la tesi di Koei Saito secondo cui Marx sarebbe arrivato a concepire un comunismo della decrescita è probabilmente esagerata tuttavia oggi io credo che l'ecologia di Marx ci aiuta certamente a comprendere criticamente il capitalismo nella sua totalità per usare l'espressione di Lucas devo dire che questo per noi italiani non è una noità perché l'ecologia in Italia è stata introdotta nel dibattito politico da eco-marxisti fin dagli anni Sessanta ricordo compagni come Giorgio Nebbia Bettini Paccino Laura Conti che erano in contatto diretto con Barry Commoner erano interni al movimento operaio simpatizzanti o militanti del partito comunista o della nuova sinistra e insomma l'ecologia è rossa io l'ho sentito dire che ero un bambino nei testi di questi autori e attivisti italiani negli anni Settanta troviamo già citazioni di Marx e Engels riscoperte da Foster e dai più recenti autori eco-socialisti a livello internazionale e voglio dirlo almeno in questo possiamo dire di avere un privato l'ecologia nel nostro paese è nata all'interno delle lotte sociali operaie dentro e fuori le fabbriche nelle lotte contro l'eccessiva edificazione del territorio con la critica alla neutralità della scienza e all'uso capitalistico della tecnologia l'ex partigiana Laura Conti che debbo dire che nella mia esperienza è stata fondamentale io l'ho conosciuta nel 1980 in una sezione del PC e Giorgio Nebbia che teneva un seminario in una camera del lavoro e ricordo cosa scriveva Laura essere rivoluzionari nel campo sociale e conservatori in quello naturale possiamo dire che la scoperta dell'ecologia di Marx quindi in Italia c'è già le origini del movimento ambientalista ed è una tradizione che io credo dobbiamo salvagere perché questo ci aiuta a non essere prigionieri delle mode a essere radicali senza essere fondamentalisti a tenere un atteggiamento critico che ci consenta e delle pratiche adeguate all'epoca in cui stiamo vivendo mentre e su questo concludo coloro che hanno proposto di abbandonare Marx negli anni 80 per l'ecologia contrapponendola hanno seguito la scia dei nuovi filosofi francesi e in questi anni e in questi mesi sono diventati i sostenitori della guerra io credo che invece questo approccio post-marxista anti-marxiano eccetera abbia mostrato tutti i suoi limiti e che proprio i nuovi movimenti sul clima come i Fridays for Future slogan cambiare il sistema non il clima indichino una strada io ho curato la traduzione di un manifesto ecosocialista americano Planet Twin in cui rivive tutto il meglio da un punto di vista ovviamente che può essere discusso nei singoli punti della nostra migliore tradizione insomma io credo che non rientri nel bla bla riscoprire la radicalità di un punto di vista sul capitalismo che non deve essere ecologico ma deve essere non deve essere scusate ideologico non deve essere un santino religioso ma va recuperato come metodo di lettura della realtà di fronte al fallimento di un approccio all'ecologia tecnocratico o scientista che è stato troppo spesso sussunto e cooptato dal capitale da questo punto di vista credo che la lezione marxiana ci serva anche per non essere subalterni alla transizione ecologica come progettata dai settori del capitale più avanzati ma non per questo che lavorano nella direzione da noi auspicata insomma in sintesi l'ecologia come il femminismo come scriveva Levins dovrebbero essere una fonte di arricchimento per la tradizione che viene da Marx come lo erano stati la filosofia di Hegel l'economia politica inglese e il socialismo francese abbiamo di fronte a noi molto lavoro ma dato che ci dicono i dati che la situazione ecologica planetaria è vicina a una catastrofe credo che in Marx abbiamo alcuni anticorpi per un approccio giusto cioè quello di una critica che veda nel sistema dell'accumulazione infinita del capitale la radice principale di questo prodursi su più piani di crisi e catastrofi del capitalismo e dovremmo dentro questa tradizione non di smettere un approccio che quello anche mi pare che venisse citato da Guido Viale che riguarda il ruolo del sud globale perché l'imperialismo caratterizza anche l'antropocene o il capitalocene e non possiamo far finta di non sapere che il sud globale ha subito un processo di imperialismo ecologico e in cui l'estrazione delle risorse ha devastato i paesi poveri e ora e continuano a devastarli e ora subiscono anche le conseguenze più gravi del cambiamento climatico voglio sottolineare che alla COP26 di Glasgow i paesi ricchi hanno negato 100 miliardi ai paesi più poveri per la cosiddetta transizione preferisco riconversione ecologica ma poi il doppio sono stati finora spesi per finanziare il massacro in corso in Ucraina credo che l'approccio marxiano sia utile anche per evitare l'operazione in corso di egemonia sulle classi lavoratrici da parte dei settori del capitale che hanno interesse a opporsi alle misure ecologiche da Trump a Bolsonaro ma anche in Italia noi assistiamo a quelli che dicono che la transizione ecologica è un bagno di sangue per evitarlo c'è bisogno che si costruisca una base di massa per il punto di vista ecologico e avere chiaro che anche qui il terreno è quello della lotta di classe perché devono essere i ricchi a pagare i costi della crisi climatica che hanno prodotto e da questo punto di vista io credo fondamentale che da Marx apprendiamo anche una critica ad approcci eccessivamente neoprudoniani perché avremmo bisogno per fermare il disastro di politiche economiche su vasta scala perché c'è bisogno di riduzione dell'orario di lavoro redistribuzione di lavoro ricostruzione dell'economia dando come diceva Guido Viale priorità al lavoro di riproduzione rispetto alla produzione di valori di scambio di merci da consumare avremo bisogno di reddito di brase avremo bisogno di regolazione del mercato e delle imprese di programmazione pianificazione intervento diretto dello Stato nell'economia nella creazione di posti di lavoro di decisioni su grande scala regolative a livello nazionale e sovranazionale ma sono d'accordo con lui sulla priorità quella della ricostituzione di una vita di comunità di un elemento soggettivo dal basso e orizzontale perché senza non riusciremo a incidere sui livelli di potere anche su questo forse Marx ci può dare qualche indicazione molto valida su come ricostruire una forza materiale per un movimento reale che abolisca allo stato di cose esistente che è caratterizzato dalla catastrofe ecologica grazie compagni e compagni e mi dispiace non essere con voi una versione più lunga poi della mia intervento la mando a Pietro per socializzarla a Piero per socializzarla